Salve ragazzi e bentornati nel mio canale, io sono Gabriciu ed oggi siamo tornati con la Pixelmon. Questo sarà l'ultimo episodio della Pixelmon. E già, vi spiego cosa è successo. Questo non è il mondo che tutti conoscete, ma bensì è un altro mondo. Abbiamo Samuroth e Ampharos con noi, quindi intanto mettiamoli qui. Salve Samuroth, il nostro carissimo, e Ampharos. Ah, così imponenti. Vi spiego cosa è successo. Ho provato ad implementare la nona generazione Pokémon, quindi Scarlato e Violetto, nel mio mondo. Ma purtroppo il vecchio mondo è stato eliminato e non sono riuscito nemmeno a mettere i Pokémon di Paldea. Quindi, purtroppo, il vecchio mondo è stato eliminato e non sono riuscito a fare niente. In questo momento sono con la versione 1.16.5 di Minecraft. Perciò, siccome la versione attuale è la 1.20.4, è Paldea, o meglio, la nona generazione è uscita dopo la 1.16. Ovviamente, provando ad implementare la nona generazione sulla versione 1.16, tutto è esploso. Quindi, spero di riuscire in futuro a includere tutte le ultime novità di Paldea, quindi Terapagos, Hoggerpon e tutti questi. Basta, questo infatti non è affatto il mondo che conoscete, è un altro mondo. Ho deciso di farlo giusto per comunicarvi questa cosa. Non giocherò più in 1.16.5. Spero in futuro, appunto, come ho già detto, di implementare poi la nona generazione e vedremo. Comunque, ci dobbiamo salutare Ampharos. Ormai la Pixelmon, purtroppo, è un lontano ricordo. Spero che, insomma, ci rivedremo. Non ho altro da dire, se non grazie per aver supportato questa prima serie sulla Pixelmon. Quindi, rimanete aggiornati perché potrebbero esserci novità interessanti in futuro. Io vi saluto e ci vediamo con il prossimo video. Ciao ragazzi! 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 Ciao ragazzi!